In Toscana entro la fine di marzo saranno vaccinati contro il Covid circa 66.000 anziani che hanno più di 80 anni, sia con la prima che con la seconda dose, ai quali se ne aggiungeranno altri 40.000 con la prima dose, vaccinati sempre tramite medici di famiglia. L'operazione sarà resa possibile grazie alla nuova fornitura di circa 100.000 dosi del vaccino Pfizer che sarà consegnata entro la fine di questo mese. Sempre a marzo arriveranno oltre 150.000 dosi del vaccino AstraZeneca che consentiranno di completare la vaccinazione delle categorie già avviate, personale della scuola e delle università, della giustizia e le forze dell'ordine. E così iniziare anche quella rivolta alle persone fra i 77 e gli 80 anni, ovvero nate negli anni 1941, 1942, 1943 e 1944, come indicato nell'ultima circolare del Ministero della Salute. Per queste categorie è stato riaperto il portale delle prenotazioni all'indirizzo web prenotavaccino.sanita.toscana.it. Contemporaneamente proseguirà la vaccinazione con il vaccino moderna delle persone estremamente vulnerabili, alle quali sarà a breve dedicato un portale web per la presa in carico e successiva prenotazione della vaccinazione. Nei mesi successivi la vaccinazione proseguirà in base a scaglioni di età, dai nati nel 1945 in poi, a meno che non arrivino altre indicazioni dal governo.